Cara Maria Pia, cari amici telespettatori, oggi abbiamo parlato di tante cose belle e importanti e non abbiamo ancora finito. Abbiamo iniziato con le parole del Papa all'Angelus di ieri che ci ricordava che serve avere coraggio, molto più coraggio per fare la pace, per costruire la pace che per fare la guerra e noi vogliamo chiudere la serie dei nostri collegamenti con Luca Iacovone di De Economio Francesco perché come anticipavamo al lancio di questa bella iniziativa di cui parleremo con lui, i giovani di De Economio Francesco hanno lanciato Step for Peace, passi per la pace, un'iniziativa molto bella che si sta sviluppando passo dopo passo, è il caso di dire, ma che Luca ci racconterà ripartendo dall'inizio. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato. Ciao Tony, buongiorno a tutti, grazie per questa fantastica introduzione. Fantastico è il vostro progetto, un'intuizione davvero molto bella in un periodo particolarmente critico per la pace nel mondo come quello che stiamo vivendo, per cui raccontaci di questi passi di pace. Sì, i passi di pace e Steps for Peace sono appunto un'iniziativa di Economio Francesco che prova a prendere sul serio appunto l'invito del Papa, fare muoversi per la pace, camminare insieme per la pace. La pace è un cammino, per fare pace, per costruire pace è necessario abbandonare le proprie posizioni di partenza. Questo vale nei negoziati internazionali, vale anche nelle scelte economiche che compiamo tutti i giorni, dai marchi che acquistiamo alle banche che utilizziamo per i nostri risparmi. Così, seguendo questa metafora della pace come cammino, abbiamo deciso di inaugurare questa grande maratona mondiale di passi per la pace. Vogliamo provare a coprire insieme la distanza che separa due città simbolo di pace, Assisi e Gerusalemme. Volendo percorrerle a piedi come fece già Francesco 800 anni fa, quando appunto si incamminò e poi incontrò il sultano d'Egitto alle porte del Cairo, allo stesso modo noi vogliamo provare a coprire questa distanza che abbiamo calcolato, pensa in 8 milioni di passi. 8 milioni di passi che faremo a pezzi in tutto il mondo, dando la possibilità a chiunque voglia farlo di donare alcuni suoi passi per raggiungere insieme questo obiettivo. E quindi in questo momento stanno camminando davvero da tutte le parti del mondo. Mi sono scritto alcuni paesi per dare l'idea della grandiosità che sta accadendo in giro per il mondo. Ti chiederei di raccontarci da dove stanno camminando per la pace e come si fa poi ovviamente per aggiungere questi passi al vostro progetto. In questo momento hanno camminato per Steps for Peace da Haiti, Madrid, Senegal, Bangladesh, Nigeria, Brasile, Sri Lanka, Vietnam, Musa, Polonia, Argentina, Cile, Singapore, davvero da tantissime parti e tantissimi italiani. Questo per noi è un segno di grande incoraggiamento e di, come dire, grande stimolo da andare avanti. Per donare passi alla pace è sufficiente appunto coinvolgere alcuni amici, decidere in totale libertà l'itinerario, il percorso da camminare insieme e portare con sé una corda, simbolo di pace anche quello, perché appunto la corda insieme al nodo francescano rappresenta un po' la necessità di stringere accordi, di stringere nodi per costruire la pace. Ed è importante portare con sé anche il patto che abbiamo siglato con Papa Francesco nel 2022 per un'economia del Vangelo, per un'economia di pace, un patto che ci si impegna a leggere insieme al termine del percorso che si è scelto di fare. Così infine puoi andare sul sito di francescoeconomy.org e lì c'è un donation form dove è possibile appunto registrare il proprio cammino e quindi i passi che vengono donati alla pace, vengono poi aggiunti appunto al contatore che in questo momento si vede e che racconta i passi che sono stati aggiornati. In realtà non è aggiornatissimo perché nell'ultimo weekend c'è stata un'esplosione di cammini in Italia soprattutto, oltre che in Spagna, per cui sono felice di annunciare ancora prima che al pubblico che ci segue sui nostri social network e sulla pagina internet che in realtà abbiamo già raggiunto il primo milione di passi. Quindi ci mancano 7 milioni ad arrivare a Gerusalemme. Che bello, che bello Luca. Intanto ringrazio la regia che ci ha proposto proprio la pagina del sito ufficiale di The Economy of Francesco dove c'è appunto la sezione Steps for Peace. Maria Pia ci toccherà anche a noi contribuire. Eh beh ma tu lo dici così perché sai che io non sono una grande camminatrice ma qualcosa del genere la voglio assolutamente fare anche per questo ringrazio Luca il quale chiedo però mi sembra importante anche che la gente proprio in real time riconosca chi sta camminando in quella direzione, con quello scopo, in quell'abbraccio del mondo. Come ci faremo a riconoscere? Ecco io quando lo vorrò fare un due ore di cammino, di passi, oltre a quel simbolo della corda molto bello che tu hai spiegato, che cosa posso portare con me? Sì sicuramente il cammino, la forma, insomma i cammini in Italia stanno esplodendo, è una forma di turismo lento che sempre più coinvolge tantissimi giovani e non solo che dedicano i loro passi a infinite ragioni, motivazioni e desideri che coltivano. Per cui come dire, distinguere i camminatori di Steps for Peace forse non è così semplice nella barahonda insomma di cammini che per fortuna stanno... Non è importante secondo te forse? Forse non è importante, sbaglio io a pensare che non sia? Probabilmente non so se è così importante, diciamo la cosa importante per noi è la corda, diciamo certamente la corda francescana con i tre nodi per noi ha un valore estremamente importante, anche perché i tre nodi ci ricordano i valori dell'economia che stiamo provando a costruire, un'economia povera, obbediente e casta, per cui diciamo anche solo portando con sé questa corda diventa importante, un'importante occasione per poter poi raccontare alle persone che si incontrano lungo il cammino dello scopo, dei passi che insomma si stanno provando a raccogliere per poi essere donati. Che poi ecco è un'iniziativa trasversale che sta facendo il giro del mondo ma può appunto coinvolgere qualsiasi tipologia di camminatore, questo penso che sia il fatto, il tratto... Io di sicuro camminerò sulla riva del mare, questo te lo dico, quindi la corda si noterà. Sono stati molto buoni perché non hanno messo i ragazzi di De Economio Cargano e di De Economio Francesco, scusate, non hanno stabilito come dire dei livelli di difficoltà, ogni passo è buono per la pace. No, per quello che mi sono esposta a dirti che lo farò, altrimenti non saperemo. Ogni passo è buono e prezioso per la pace e sul nostro amatissimo Gargano che ogni tanto spunta anche involontariamente mentre parliamo abbiamo tanto la pianura quanto la montagna. Luca, noi ti ringraziamo di cuore per la bellezza e l'importanza di questo progetto, per aversene parlato, magari ci ritroveremo più avanti a ridosso dell'obiettivo che vi proponete di raggiungere. Ci mancano ancora 7 milioni di passi per cui invitiamo tutti quanti voi all'ascolto ad armarvi di una corda francescana e del testo di De Economio Francesco per contribuire a questa bellissima iniziativa. Grazie, grazie davvero. Non posso che sottolineare il tuo invito perché davvero tutti possiamo sperimentare che ciascuno di noi può fare qualcosa per la pace. Sottolineare, tornare a dire con forza l'importanza di mettersi in cammino, di una pace che è cammino e necessità di fare incontro e di sperimentare l'incontro è fondamentale per noi. Molto bene, allora buoni passi a tutti. Caro Luca, noi ci ritroviamo prestissimo. Grazie, alla prossima. Grazie, grazie a te per essere stato con noi. Io, Maria Pia, do la linea alla regia, poi ci ritroviamo insieme per l'ultima parte di Just Today dove andremo a recuperare anche le ultime notizie. Linea alla regia.